Una volta mi piacerebbe andare a ballare, ma è anche il compleanno di Diego, cioè... E quindi cosa vuoi fare? E... Andrà... Minchiamo, hai visto il culo? Culo? Ma che culo è culo? Ma perché dovrei mettermi a guardare il culo di un'altra che sto con una come te che neanche le scarpe ci potrebbe fare, amore? Io sono l'uomo più fortunato del mondo, non guarderei mai nessun'altra. Ma che sciocca che sto, amore mio, come si fa non amarti? La gioia. Hip Hop TV, in onda su Sky, canale 720 e in free streaming su tutti i device su live stream.com slash hip hop tv slash live.